Ciao, oggi sono venuto qui, in Kronothurn, per vedere e toccare con mano come realizzano i bollitori in pompa di calore, per capire se effettivamente è la piccola NASA delle pompe di calore, come viene descritta da tutti. Siamo proprio a due passi con l'Austria, proprio lì c'è il confine con lo stato austriaco e si sente molto questa influenza qui in Kronothurn. Ecco i gioiellini di casa Kronothurn. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.